Denuncia la povertà di salute Papa Francesco che incontrando l'Associazione Religiosa degli Istituti Sociosanitari chiede di prendersi cura degli scartati dalla società. Vediamo. Il ritorno della povertà di salute sta assumendo in Italia proporzioni importanti, soprattutto nelle regioni segnate da situazioni socio-economiche difficili, ma ogni persona ha diritto alle medicine. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i componenti dell'Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari a cui è evidenziato che ci sono persone che per scarsità di mezzi non riescono a curarsi, per le quali anche il pagamento di un ticket è un problema e ci sono poi persone che hanno difficoltà di accesso ai servizi sanitari a causa di lunghissime liste di attesa, anche per visite urgenti e necessarie. Per il Santo Padre il bisogno di cure intermedie è sempre più elevato, vista la crescente tendenza degli ospedali a dimettere i malati in tempi brevi e di conseguenza, soprattutto per gli anziani, stanno diventando un problema serio anche dal punto di vista economico. La sanità di ispirazione cristiana, secondo Bergoglio, ha il dovere di difendere il diritto alla cura, soprattutto delle fasce più deboli della società, privilegiando i luoghi dove le persone sono più sofferenti e meno curate, anche se questo può richiedere la riconversione di servizi esistenti verso nuove realtà. Il Pontefice ha poi rivolto un invito all'Associazione ad accompagnare le persone che vengono accolte nelle strutture sanitarie religiose, senza trascurare l'assistenza spirituale dei malati, delle loro famiglie e degli operatori sanitari, dando un'attenzione completa alle persone, perché il compito è prendersi cura di coloro che sono scartati dall'economia sanitaria e da una certa cultura contemporanea. Nessuno, ha concluso il Papa, deve sentirsi solo nella malattia, ma deve essere aiutato a percorrere con speranza cristiana la strada, a volte lunga e faticosa, dell'infermità.